Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda è sicuramente la più semplice di tutte le domande che tendo a fare o forse la più complessa. Chi è scerrita Duran? Oh mamma, facciamo così? Wow, ok, chi sono? Guarda, le persone che mi conoscono possono dire che faccio più fatica di parlare delle cose che faccio, in quel senso le devi parlare di me. Ma se devo descrivermi direi che sì, sono una ragazza californiana che fin da piccola io cantavo la musica gospel in chiesa, da lì è sbocciato il mio amore per Gesù, anche da piccolina. Poi da cinque anni mi sono innamorata del canto lirico e lì è sbocciato proprio il sogno del canto dentro di me. E io potrei anche dirlo che secondo me in quel momento lì è stato proprio come un'ispirazione divina perché nessuno attorno a me ascoltava la musica lirica. I miei genitori erano entrambi chef, nessuno ascoltava la musica lirica. Poi in un quartiere tutto afroamericano e la gente anche più avanti nella mia vita mi prendevano in giro perché ascoltavo la musica lirica, sai, perché tutti la musica black, R&B, soul, rap, hip hop, quella roba lì. Per cui poi ho fatto nella scuola superiore tutta la formazione come cantante lirica perché è un liceo artistico di altissimo livello. Lì ho cominciato a studiare canto lirico, a ballare, a recitare, a fare spettacoli teatrali, musical. E lì sapevo, lì senza dubbio, che quello era il mio destino. Dovevo fare quello nella vita, no? E poi a 18 anni mi sono trasferita a Los Angeles per laurearmi in canto lirico. Da lì ho cominciato a girare in Europa, America, Canada fino a trasferirmi a New York dove ho cantato nei diversi musical di Broadway. E io dico poi quella è un po' la mia esperienza prima di venire in Italia. Ma se per descrivermi direi che io mi vedo come una persona semplice, mi piacciono le cose belle nella vita, ma sono una persona semplice che ci tengo tantissimo alla mia famiglia. Credo che la fede in Gesù è tutto perché tutto, anche se dovesse crollare tutto, lui ci sarà sempre e lui non crollerà mai e non ci abbandonerà mai mai. Per cui sono una persona che è solare, che mi piace anche cantare perché è vero il canto come un strumento. La musica è un strumento che va oltre tutti i confini, va oltre la lingua, poi fra l'altro scrivo soprattutto in inglese mentre sono qui in Italia. Direi che ho fatto tante cose belle ma la cosa per me più importante è di poter trasmettere cose spirituali, di poter trasmettere ciò che punta la persona verso Cristo, ecco, la via, la verità, la vita. Io sono fatto così perché credo che c'è questo bombardamento giornaliero di tutte le cose negative sulla terra, tutte le cose brutte. Io credo che non è solo quello, ci sono altre cose per cui con le mie canzoni che sono praticamente estensione delle mie preghiere, io vorrei parlare di queste cose belle perché credo che Dio è amore. Ecco, ho parlato un po' bla bla bla, un po' tanto, ma sei partito con una domanda non tanto semplice, ecco. E parlando adesso dell'ultimo lavoro che è uscito da poco, sicuramente come nasce questo lavoro? Come si svilupperà questo lavoro? Come andrà avanti questo lavoro? Questo lavoro intendi l'ultimo? L'ultimo, sì, questo, già l'album, sì. Sì, sì, sì. Guarda, praticamente partiamo da 2019 dove praticamente in Italia, potrei dire che quello è stato un anno stupendo, top per me in Italia a livello lavorativo. Ho cantato a Sanremo con i Rama nella canzone La ragazza con il cuore di lato, con il mio cuore gospel. Poi ho vissuto delle emozioni bellissime lì a Sanremo. Ho cantato in tv, ho fatto il mio tour gospel, di solito sotto Natale, giro l'Italia facendo dei concerti gospel. E poi, trac, 2020, no? Poi prima del primo lockdown di 2020, perché già avevo qualche canzone mio in edito nel cassetto, ho detto dai, tiriamolo fuori. Adesso gennaio di solito un mese tranquillo. Ho detto, va bene, tiro fuori una canzone. Ho chiamato il mio amico vitalista Alberto Steri e ci siamo messi insieme per provare a fare le prove, no? Perché io volevo registrare alcune delle mie canzoni. Io pensavo magari di registrare tre canzoni, magari fare un video. E poi, pian piano, questo progetto è diventato una cosa molto più complessa, coinvolgendo più persone. E poi, dove sono andata avanti a scrivere tante altre canzoni. Poi, su questo disco qui, il Remnant Song di quattordici brani, ci sono tre, quattro remix di alcune canzoni. Poi, quasi tutte le canzoni, tranne tre, sono state scritte nel 2020 e 2021. Per cui, per me, devo dire che il lockdown è un momento, sì, sconvolgente per tutti. Poi, parliamo di noi, del mondo dello spettacolo, tutto azzerato, bloccato. Io, dentro di me, mi sono rifugiato nel Signore. Poi, lì ho trovato la mia pace, la mia gioia, la mia tranquillità con la mia famiglia. Poi, facendo le passeggiate, ogni giorno, a me piace fare le passeggiate in mezzo ai campi, in mezzo alla natura, con il mio cane, che si chiama Candy, e lì prego. E poi, anche lì, tutte le mie, faccio i miei sfoghi personali davanti a Dio e lì, praticamente posso dire che le mie preghiere, le mie lacrime, le mie speranze, si sono trasformate in canti di adorazione, canti di gioia, di forza, di incoraggimento. Poi, con i testi anche molto, molto forti, molto profondi, che come se attraverso quello che ho scritto è tornato a me per darmi ancora la forza, darmi ancora speranza a me. Da questo posso dire, ovviamente, non è che sono qui per scrivere soltanto per il mio piacere. Poi, visto che sono delle estensioni delle mie preghiere, ho detto, caspita, io vorrei che queste canzoni, poi, mentre le scrivevo sentivo proprio molto forte l'amore di Dio, la presenza di Dio. Vorrei che le persone possano provare questo grande amore come l'ho provato io, perché Dio esiste, lui c'è. Aspetto soltanto che c'è un passaggio, un versetto biblico che mi piace, dove dice che Gesù sta alla porta del nostro cuore e bussa. Aspetto che noi apriamo la porta a lui, così lui può entrare e cenare con noi. E io dico, è proprio un rapporto intimo, personale, a un ricco, non è una cosa astratta, non è una cosa, non sto parlando di misticismo, sto parlando di una spiritualità vera che esiste. Per cui queste canzoni per me sono veramente, mi ha reso, non lo so, mi ha dato un focus molto chiaro, ecco. Per cui è subentrato poi il mio pianista, devo dire anche, sì ho scritto le canzoni, ma tutto il lavoro del CD non è, non ho fatto tutto da sola, giustamente. Poi a partire da Alberto Steri, colui al quale ho cominciato il progetto, è subentrato poi la mia band attuale, con le persone alle quali ho lavorato, con cui ho lavorato diversi anni, faccio il tour in Italia con loro, Paolo Frattini e Gianluca Fiorentino, al mio pianista Aldo Bulgaroni, che veramente ha dato vita e un tocco di genialità agli arrangimenti che ha fatto sul mio disco. Soprattutto quelli anche con l'orchestra, questo suono cinematic da colonna sonora, dove in questo disco ho tirato fuori tutte le vocalità che ho dentro di me, dall'R&B, gospel, soul, fino ad arrivare al crossover, lirica e musical, per cui per esprimere tutto quello che ho dentro di me. Poi un altro grande arrangiatore pianista, Marco Di Domenico, che ha arrangiato tutto il mio disco precedente, Keep Shining. Lui ha arrangiato il primo brano del disco Beautiful Love, e poi ha fatto gli arrangiamenti degli archi di You Are Mine. Poi veramente posso dire, poi io sono anche una persona per dire, a me non piacciono le etichette, non voglio essere etichettata come anche in America, come era solo cantante lirico o qui solo cantante gospel. Io sono una cantante, poi sono anche una compositrice, cantatrice e vorrei trasmettere. Per cui ci sono anche l'altro guitarrista meraviglioso che ha suonato su Beautiful Love, Nicola Oliva, che ha suonato anche con Lauro Pausini. Ha contribuito sul grande talento al mio disco. Poi una trilogia. La prima parte sono brani più R&B, soul. La parte in mezzo lo chiamerei tipo la parte cinematic, gospel cinematic, dove c'è la colonna sonora con la voce gospel, con i cori, con la lirica, con un misto di suoni e di vocalità diversi. Poi si conclude con le canzoni dance, che ho collaborato con alcuni DJ nel mondo della dance, tipo Jay Nice, Massimo Spinetti e Leo Martera. Per cui direi che dà un po' di tutto. Nel senso a livello, quando si tratta, non è un genere soltanto. Ci sono tanti generi in questo disco qui. Che emozioni provi quando salendo sul palco sali e vedi inizialmente le persone che sono silenziose, perché poi vedo un... Ehi, la VJ ha già detto che portavi a spasso, ecco, è presente. Sì, lei Candy, lei che mi ha accompagnato. È bellissimo. Grazie. Sì. E dicevo, con le emozioni che provi quando inizialmente salendo sul palco hai davanti delle persone che inizialmente sono silenziose, che poi quel silenzio che parla, poi le vedi piano piano essere partecipi con il tuo canto. Che emozioni provi? Guarda, io posso dire che per me... Io pregavo su questo discorso qui, perché per me che io sono americana e poi noi, come hai detto tu, siamo magari più espansivi, no? Tipo, per cui è più facile vedere sul viso quello che uno vive. Ma per me è stato diverso invece qui in Italia, perché tante volte magari le persone sono più... All'inizio sembrano più trattenuti e per me, come sono fatta io, io mi chiedevo, ah, ma magari non è piaciuto, magari non è arrivato il messaggio, magari, boh, non lo so. E poi erano quelle stesse persone di venire dietro le quinte con le lacrime a dire, ah, guarda quanto è stato bello, mi ha toccato, mi sono commossa. E poi, come sono fatta io? Ho detto, ma tu, ti sei commosso tu. Ma poi, guardando l'espressione, ho capito questo. Non si può giudicare mai le persone dall'apparenza, perché dentro, sotto nel cuore c'è ben altro, spesso, no? Per cui potrei dire che è il mio obiettivo di cercare di trasmettere le persone, ovviamente cosa posso pretendere, in un'oretta, un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza, di trasformare la vita. Non potrei dire questo, no? Ma di trasmettere qualcosa che potrebbe dare quella speranza più per farle andare avanti, per indicare a loro che Dio c'è, che non sono da soli in questo mondo, che non sono abbandonati. Poi la cosa interessante è che spesso all'inizio del concerto sul palco tu vedi l'espressione delle persone, vedi anche, percepisci la difficoltà che c'è. che magari tante persone stanno passando, sai, un periodo difficile. Per cui di poter trasmettere gioia, perché anche uno dei versetti biblici che mi piacciono di più è la gioia del Signore è la nostra forza. È la verità, la gioia. Anche si può avere la gioia. E ti dico, durante il lockdown per me, nonostante l'adversità, le difficoltà, poi che non lavoravo, io attraverso Dio, Gesù, io avevo pace, avevo gioia, gioia tremenda. Poi queste canzoni sono nati proprio in quel contesto lì. Per cui, alla fine, quando riesco a vedere nei concerti le persone che, sai, si lasciano andare, che poi sorridono, che cantano, che magari si commuovono, quello è bello. Quello è bello. Hai fatto tante collaborazioni e secondo te quale ti ha lasciato, ti ha dato più emozione? Eh, sono state tutte belle. Però quella è quella che ti ha dato un po' più di emozione, che ti ha fatto sentire più qualcosa in più? Ti ha dato, o ti ha fatto crescere qualcosa in più? Wow. Ok. Parlo prima dell'America. Devo dire che in America, quando, a livello artistico, quando ho contato nei musical di Broadway, quello è stato fra i lavori più difficili e più impegnativi della mia vita, perché veramente lì arrivi proprio al top del top del mondo del musical e fare otto spettacolo a settimana, ballando, cantando, recitando, dove tutto deve essere impeccabile sempre. E poi la competizione è incredibile lì a quel livello lì, no? Veramente a livello di lavoro attivo mi ha insegnato tanto l'impegno. Perché anche lì vedevo spesso magari le persone, io non me lo sento. E poi molano lì, gettano la spugna lì. E lì altro che non te lo senti. Vedevo gente lì che stavano a porre male, ma piuttosto di rimanere a casa, erano lì. a lavorare. Poi perché, sapendo poi l'impegno, poi il prestigio che c'era dietro questo lavoro qui, poi sapendo anche che se tu non c'eri, subito dopo di te c'era un altro pronto per prendere il tuo posto. C'era proprio un modo di lavorare molto diverso, proprio molto, molto tosto. Per cui quello mi ha dato tanto. E poi venendo dalla lirica dove la tecnica era tutto, secondo me ha insegnato tanto. Che cosa vuol dire di andare avanti. Poi anche dico questo ai giovani, perché secondo me il reality va bene, belli, carini. Ma le persone spesso pensano che adesso basta arrivare su un reality senza fare tanto studio. e poi arrivi alle stelle. E magari per qualcuno succede quello, ma non è stata la mia esperienza. Io credo tanto nello studio, credo tanto nello studio e di avere perseveranza, di dare sempre il meglio che si può dare e di essere umile. Sapere che c'è sempre qualcosa da imparare. Non è che arrivi a un certo livello e lì basta, sai già tutto. No, c'è sempre qualcosa da migliorare, sempre qualcosa da imparare. di avere un cuore umile per accogliere dalla vita le cose da imparare, spunti nuovi, no? Per migliorarsi. Poi quando sono qui in Italia, guarda, ovviamente immagino che vorresti parlare delle esperienze con Celentano, con Morandi, poi dei mostri sacri italiani. Sai la cosa bella di loro? L'umiltà. Veramente vedevo due persone umili e ci facevano di quello ridere, veramente con questa autoironia. Veramente io, oltre ad essere grandi cantanti e grandi artisti, sia Celentano e Morandi, io potrei stare lì ad ascoltarli. Loro raccontare i loro inediti della loro vita. Cioè, erano di quelle storie da libri, da film. Perché loro hanno, la vita le hanno vissute, no? L'hanno vista. Per cui ho visto, quello mi ha insegnato tanto anche. Poi ci sono alcune persone che pensano di essere chissà chi e se le tirano e non sanno più come trattare le persone con amore, no? O trattare le persone con dignità. E con loro non ho, devo dire, soltanto cose positive. E quello vuol dire tanto, visto i nomi che sono loro. Quello per me è stato un insegnamento proprio bello, ma anche molto incoraggiante, ecco. Di avere persone a quei livelli lì che sono umili, alla mano, che riescono anche a relazionarsi con gli altri, che sono disponibili. Che non è scontato, eh. Ci sono quelli che non hanno fatto neanche metà delle cose che hanno fatto loro, che pensano di essere chissà chi. Che hanno smontato la testa. E quello non è bello per nessuno, secondo me. Che differenza passa tra show americano e show televisivo italiano? Secondo, c'è una differenza? Ok. Ovviamente se tu lo butti così e metti dentro tutto, almeno dammi un'indicazione di genere perché… Guarda, tu hai partecipato a diversi… In America hai partecipato a un talk show che sono presente con il personaggio… Comunque… Velle, no? Sì. Sì, sì. Allora, sì. E proprio dopo hai fatto anche stili festival, ma tra differenze, ad esempio, un festival come viene vissuto in America, che poi ci sono festival diversi perché loro fanno tanti generi festival, il gospel country, che poi quelli del country non amano molto quelli del rock. Quelli del rock dicono noi non cantiamo country perché non ci piace il country. Quindi c'è anche un pochettino di discussione tra questo mondo. Ma poi per me è anche un po' di assurdità perché c'è talmente un miscuglio fra le cose. C'è il rock dentro il country. Per cui vi dico per uno che dire no, c'è un misto di cose, questo minestrone musicale che siamo noi in America, che per me a volte non ha senso di fare discorsi così. Per cui ovviamente c'è una differenza. Poi spero che non vado a offendere qualcuno, ma la mia prima impressione quando vedevo i programmi televisivi in Italia sembrava che la gente piace litigare qui, sentivo e ho detto mamma mia, sempre da discutere, sempre di fare batti becco, sempre da discutere. Se non c'è un litigio, quasi quasi non c'è un programma televisivo, no? E quello che mi è rimasto proprio, no? Ovviamente non tutti i programmi televisivi sono così, ma tante cose secondo me anche sono così. e a tuttora lo penso anche così. Ha senso per te quello che sto dicendo? No, sì, perché molto spesso lo show italiano è effettivamente un pochettino, si basa sulla discussioni, mentre gli show americani, oltre che la satira americana un pochettino diversa, dal Sullivan Show che poi è tradotto in italiano, però non... cioè la satira che loro fanno è un pochettino diverso dalla nostra, chiaramente un pochettino a vista... e a questo punto sperando che si possa cantare dal vivo, perché a questo punto diamo per scuso che si possa cantare. quando partirà il nuovo tour oppure nuovi eventi successivi? Quando ci saranno? Guarda, direi... posso dire... poi si sente il mio cane che sta cantando lei. Candy, basta! Sta cantando pure lei. No, adesso, guarda, questo mese ho già cominciato a cantare in giro per l'Italia il mio tour gospel, dove ci sono ovviamente dietro le canzoni famose, gospel che le persone aspettano di sentire. e poi metto dentro anche qualcosa, qualche chicca nuova, qualche canzone nuova mia per alternare fra quello vecchio e quello nuovo. E poi adesso... oggi è una giornata di pausa, diciamo, ma poi nel weekend domani ho un evento a Nerviano, poi a Varese, poi Sicilia e Catanzaro, per cui poi fino all'anno, l'ultima settimana dopo Natale, un tour in Sandegna, per cui grazie a Dio che adesso si riesce a fare qualcosa, perché anche le persone hanno bisogno di una... è importante questo, non solo per noi, no? Ma per il pubblico, perché il pubblico ha bisogno di... di... di ricevere... di... di stare lì e ricevere le emozioni belle, ecco, secondo me. E possiamo concludere dicendo che la musica, come l'arte e la pittura, è sempre l'espressione dell'anima? Per me sì. Sì, sì, sì. E per me sì. Sì, ovviamente l'anima si può... l'anima dell'uomo si può collegare al bene o al male. Quello sì. Per cui io... il mio obiettivo io vorrei collegarmi al bene, alla luce, a quello che è Gesù, a quello che è amore. e poi, sapendo tutti i difetti che ho, che non sono una persona perfetta, che vorrei veramente portare questa gioia alle persone, ecco. Perché spesso, tornando al discorso, per concludere, su questo anche nel mondo del gospel, perché spesso le persone vedono, ah, ma il cuore è il gospel, le persone quando cantano il gospel perché sembra tutto esagerato, no? Tipo un po' così, no? Un spettacolo. Invece nel vero senso della parola non è un spettacolo per far vedere chissà che cosa, ma perché Dio è talmente grande e quando uno arriva a essere poi esagerato così è perché uno è talmente consapevole che Dio è buono. è un'espressione della fede. Poi noi, sai, nell'afroamericano così con la musica gospel così è molto espansivo, no? Ma non è, è un'espressione proprio di qualcosa che va oltre le parole, che va oltre la musica. Questa è come l'estensione della preghiera stessa, ecco. Soprattutto la musica del gospel che vuol dire che è il Vangelo, ecco, che esiste per innalzare il nome di Gesù, ecco. Bene, intanto ti ringraziamo per l'intervista. No, ma perché, scusa, Happy Days nasce per una canzone pasquale? Perché Happy Days dovrebbe essere, forse, sul genere, cioè quel periodo della rinascita, quindi essere un giorno felice della rinascita del Signore, quindi dovrebbe essere più indicativo per Pasqua che per Natale. Però viene cantata spesso a Natale. Ma posso dire questo? Qui in Italia è un po', c'è la cultura che il gospel si fa solo sotto Natale. Invece è sbagliato. In America non esiste questo. In America la musica gospel si fa tutto l'anno, non solo per Pasqua, non solo per Natale. Poi Happy Days è una canzone gospel che non è di Pasqua e non è neanche di Natale. È semplicemente una canzone gospel, un giorno felice, quando Gesù lavò tutti i miei peccati. Mi ha insegnato a vegliare, pregare e gioire ogni giorno nella mia vita. Quella è una canzone gospel per ogni giorno. Invece qui in Italia la gente pensa solo per Pasqua o Natale. Invece è sbagliato. È una cosa di ogni giorno. Poi noi lo viviamo in tutt'altra maniera in America. Sì, non è neanche quello Pasqua o Natale. È di ogni giorno praticamente. Poi ci sono canzoni ovviamente gospel che sono, per esempio, nei miei concetti gospel, per esempio, Jesus, What a Wonderful Child. È una canzone gospel e anche natalizio allo stesso tempo, stesso modo, perché si parla della nascita di Gesù. È proprio indicativo di Natale. Poi si può fare anche le canzoni di Natale in stile, spesso, come mi piace fare a me nei miei concerti, i classici, Silent Night, Holy Night, stile gospel con i coristi, poi con il mood gospel, quello ci sta. Poi sì, esiste che ci sono canzoni gospel che sono proprio fatte apposta per la Pasqua o Natale. Ma il happy day non è fra quelle. Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo e soprattutto ti ringraziamo perché ci hai dato un momento di gioia. Ci hai regalato un momento di gioia. Quindi ti ringraziamo tanto e soprattutto per vedere e sentire la tua gioia nella tua fede. perché noi siamo cristiani, però come la manifestità ci dà tanto entusiasmo e ci fa piacere. Quindi ci salutiamo facendoci saluti. Guarda, il mio augurio sarebbe augurare tutti un buon Natale e di aprire la porta del vostro cuore a Gesù, così lui possa entrare e cenare con voi. Ok, auguri a tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Ciao! Grazie a tutti Oltre che sei fantastica, ci hai dato un momento di serenità, quindi ci fa piacere e poi se canti come ci racconti con il cuore sei ancora di più, però lo sappiamo che canti benissimo, però lo si sente già dalla tua voce che è una voce, lì scrivono calda, noi diciamo che è veramente bellissima. Grazie Grazie a tutti. Guarda, tu sei veramente una persona scusata, ti ringrazio per il tuo tempo, anche per le domande che mi ha fatto e spero che un giorno possiamo conoscerci in persona. Sarà bello vederti se riusciamo, cioè se nelle nostre zone, nelle marche sarai presente, forse riusciremo anche a venerti a sentire cantare dal vivo perché la musica dal vivo è un'altra cosa. Il video può dare qualcosa, ma vedersi e ascoltarlo davanti è un'altra cosa. Il palco, il vedersi, proprio sentire la voce davanti è probabilmente è un altro livello, un altro pianeta perché il registrato è piatto e non esprime effettivamente poi quello che chi scanta davanti con il viso, con le immagini, con i movimenti, con i gesti, esprime la passione e il sentimento che sente. Sì, sono d'accordo. Poi io vorrei dire questo, soprattutto in questo momento qui, che di essere uniti e non divisi come nella nostra umanità. E più che mai bisogna essere uniti, non divisi, perché l'amore caccia via la paura. Il film presenta l'intervista di Pietro Oh, oh 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 Grazie a tutti.